Due operai di 64 e 62 anni hanno perso la vita a Monopoli a causa del cedimento del terreno, sovrastante l'intercapedine nella quale si trovavano per lavorare una conduttura. L'incidente è avvenuto di primo mattino. I residenti delle palazzine circostanti raccontano di aver sentito le sirene delle ambulanze intorno alle 9. Entrambe le vittime erano residenti a Conversano. Il sindaco del comune del Barese, arrivato a Monopoli non appena presa la notizia, ha espresso vicinanza alle famiglie. La città di Conversano è sconvolta da questa tragedia accaduta in un cantiere privato qui a Monopoli. Ci dispiace tanto, siamo vicini ai familiari che sono ovviamente stravolti. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema sempre attuale, non si finisce mai di imparare o di avere precauzioni, per cui credo che da parte di tutti ci debba essere proprio una concentrazione e un'attenzione particolare perché perdere delle vite in questo modo è davvero triste. Tra l'altro sconvolge anche i programmi, i progetti, le aspirazioni di intere famiglie. L'incidente accade a poche settimane dalla pubblicazione del rapporto sulle morti sul lavoro, un triste bilancio che lo scorso anno ha contato 51 vittime sul caso, indaga la procura di Bari.